Il periodo a cavallo tra il 932 e il 1380 è un'epoca decisiva della storia antica di Capodistria, segnata dal progressivo diffondersi dell'influenza veneziana sulla penisola estriana e, allo stesso tempo, degli sforzi da parte sia dei patriarchi di Aquileia che dei sovrani tedeschi di discendenza sassone di conservare un ruolo dominante. Da questi 448 anni è dedicata la quarta tappa del progetto espositivo a ritroso nel tempo, Coper Capodistria 1500, avviato dal Museo regionale nel 2019, ponendo come pietra miliare l'anno 524, anno in cui la città vide la consacrazione del suo primo vescovo San Nazario. Progettando questa tappa, questa quarta edizione, ci siamo resi conto che il nostro concetto qui non è più valido, nel senso che prima abbiamo optato per la presentazione dei personaggi illustri importanti che hanno caratterizzato ogni tappa. Qui invece no e dopo abbiamo deciso di presentare piuttosto degli anni, delle tappe importanti con dei monumenti e anche del fondo archivistico che dimostrano la storia, lo sviluppo di Capodistria. Tre reperti a suscitare il maggiore interesse sono sicuramente le prime immagini del primo statuto della città datato 1380, finora sconosciuto e ritrovato a Venezia nell'archivio di Stato. Il documento sarà oggetto di un nuovo progetto una volta conclusa la quinta tappa della mostra storiografica nel 2024.